Gaia Traditi cercando di evitare problemi di concentrazione, attenzione problema alla caviglia adesso per Gaia Traditi arriva il medico di gara, 17 secondi al termine, terza frazione, 12 Gaia Traditi, 9 Emilia Rossatti che però decide di chiudere così il match, gesto di grande fair play per l'atleta Emiliana che ha deciso di non continuare la sfida arriva il grande applauso di tutto il pubblico, finisce il match grande abbraccio tra Emilia Rossatti e Gaia Traditi davvero un bel momento di sport questo che stiamo vivendo qui a Vercelli